Sono appena scesa dal treno Roma-Viterbo, quello che serve per raggiungere una parte della periferia nord di Roma. Sarebbe un'infrastruttura preziosissima perché davvero fa risparmiare il tempo. In 12 minuti da Piazzale Flaminio si arriva al centro RAI. Sono venuta qui perché tra poco c'è una trasmissione RAI da registrare. Sulla strada, lì sulla Flaminia c'è sempre traffico, per cui sarebbe davvero fantastico. E in effetti prenderlo si può. Però, e questo è lo stato di conservazione. I cristalli della parte intera, da quanto tempo stanno giù? Non lo so. Lasciamo perdere la sporcizia e la carrozza adesso se n'è andata. Dopo me la mando una fotografia di com'è dentro il treno. Non si può, non è accettabile. Allora, basta davvero tanto così per fare di Roma una bella città. Così non può stare.